Bene, vediamo oggi la quinta tecnica di scomposizione dei polinomi, la tecnica che utilizza il metodo di Ruffini. Abbiamo visto la scomposizione in fattori dei polinomi che si compone di diversi scalini. Il primo è la raccolta fattore comune, totale a fattore comune che si utilizza quando i vari monomi hanno un MCD diverso da 1. Il secondo passo è l'accoglimento parziale, che è la tecnica analoga alla precedente, ma anziché considerare tutti i monomi del polinomio, le considera copie o terne. Anziché si utilizza se, cioè ha senso quando, facendolo in questo modo, quello che otteniamo ha comunque dei fattori magari tra parentesi comuni. Poi abbiamo visto la terza tecnica, che è quella dei prodotti notevoli. Quindi utilizziamo le differenze di quadrati, il quadrato del binomio, il quadrato del trinomio, il cubo del binomio, la differenza di cubi, la somma di cubi. La quarta tecnica, che si utilizza attenzione, sono poi trinomi di secondo grado. Quindi il trinomio va detto di secondo grado particolare, che si utilizza quando un trinomio di secondo grado, appunto, una certa variabile, una certa grandezza, e il termine di grado 1 e il termine di grado 0, possono essere interpretati come la somma o il prodotto di due diversi numeri, due diverse grandezze. In quel caso posso scomporre. Oggi vediamo l'ultima tecnica, che è quella della tecnica di Ruffini. Vediamo subito un esempio. Immaginate di avere questo polinomio. x alla terza, meno 2x, più 1. In questo caso non posso ovviamente usare il trinomio caratteristico perché è il trinomio di terzo grado. Non è un prodotto notevole. Non posso fare l'acquolimento totale. E l'ultima spiaggia, appunto, è la quinta tecnica di discomposizione, che è quella di Ruffini. In generale, vedete che se, vi ricordate il teorema del resto, c'è un polinomio di grado n, e il teorema del resto della divisione per x meno un certo numero A vale il valore del polinomio quando x vale proprio quel numero A. indipendentemente da cosa si ha A. Qui vedete che nel nostro polinomio abbiamo un termine di terzo grado, un termine di grado 1 e il termine di 8. e i coefficienti più 1, meno 2 e più 1 sono tali che se io metto il posto di x1 in questo caso quindi applichiamo questo teorema e se nel polinomio che abbiamo appena visto io metto x uguale a 1 ottengo 1 alla terza meno 2 per 1 più 1 e quindi 1 alla terza fa 1 meno 2 per 1 meno 2 più 1 il totale è 0 quindi se il resto della divisione è 0 vuol dire che il nostro polinomio cioè x alla terza meno 2x più 1 è divisibile per x meno 1 il nostro A vale 1 perché? perché il resto è la divisione 0 quindi potrò scomporre i trinomi in questo caso come il quoziente per il divisore quindi facciamo la divisione dividiamo con la tecnica di Ruffini quindi scriviamo il coefficiente del polinomio dividendo ordinati e riempiendo con lo 0 i posti che mancano quindi avremo 1, 0, meno 2 e ancora 1 ok abbiamo due barre verticali per l'orizzontale nel posto a sinistra va il numero che annulla il resto quindi il numero 1 e poi procediamo con la divisione abbasso l'1 1 per 1 fa 1 lo metto qui sommo 0 più 1 che fa 1 1 per 1 che fa ancora 1 lo metto qui sotto meno 2 più 1 fa meno 1 meno 1 per 1 fa meno 1 meno 1 più 1 fa 0 questo è il resto della divisione che ci conferma essere nulla e qui abbiamo i coefficienti del quoziente questo è il quoziente quindi il nostro polinomio x alla terza meno 2x più 1 è scomponibile in il quoziente che è x alla seconda più x meno 1 questo guardate che questi numeri che appaiono qui sotto in questa riga sono i coefficienti del polinomio di grado in questo caso 2 perché questo è il coefficiente di grado 0 coefficiente di grado 1 coefficiente di grado 2 e poi per il divisore che è x meno 1 e quindi abbiamo scomposto il nostro polinomio in due fattori attenzione questo non si scompone ok non è scomponibile e quindi ci otteniamo così c'è una domanda immaginate di avere questo 2x alla seconda anche la terza scusate 2x alla terza più x alla seconda più x e meno 1 ok qui ricordate che abbiamo usato il prima del resto quindi la divisione fuori o fini e questa funziona nel in tutti i casi in cui le precedenti tecniche non funzionano qui abbiamo un polinomio chi ha la stessa caratteristica ok per scomporre dobbiamo usare ruffini ma attenzione se ordiniamo i termini in ordine decrescente di grado quindi del grado in questo caso 3 è grado 0 e osserviamo che il coefficiente del grado più alto non è 1 in generale possiamo cercare i valori del numero a per calcolare il resto e quindi verificare che il polinomio sia divisibile per x meno a il numero da dare a x il valore da dare a x per cercare di annullare il valore del polinomio e quindi ottenere un divisore del nostro polinomio di partenza va ricercato tra quindi il divisore avrà la forma x meno a con a che è il rapporto tra i divisori del termine noto o termine di grado 0 fratto i divisori del termine del coefficiente di grado massimo in questo caso del termine di terzo grado quindi nel nostro caso saranno il rapporto tra i divisori di meno 1 e i divisori di 2 quindi a sarà il rapporto tra i divisori di meno 1 fratto i divisori di 2 perché il termine di grado massimo che è x la terza coefficiente 2 quindi avremo numeri del tipo più o meno 1 più o meno un mezzo ok perché i divisori di 1 di meno 1 sono più o meno 1 i divisori di 2 possono essere più o meno 1 ma anche più o meno 2 d'accordo? di conseguenza proviamo ad esempio il valore del polinomio se x vale che ne so 1 in questo caso avremo 2 per 1 la terza devo mettere la x ma non ha senso poi c'è più 1 la seconda più ancora 1 e meno 1 vi faccio rivedere che questo non è 0 perché avremo 2 più 1 più 1 meno 1 che fa 3 e questo è diverso da 0 quindi 1 non va bene se proviamo con meno 1 anche non va bene perché avremo 2 per meno 1 alla terza più meno 1 alla seconda più ancora meno 1 più ancora anzi scusate infine c'è meno 1 questo avviene meno 2 più 1 meno 1 meno 1 e viene 1 ed è diverso da 0 no viene meno 4 più 1 meno 3 quindi questo no e anche questo no ok proviamo con un mezzo qui avremo 2 per un mezzo alla terza più un mezzo alla seconda più un mezzo meno 1 quindi viene 2 per un ottavo più un quarto più un mezzo meno 1 allora due ottavi fa un quarto un quarto più un quarto fa un mezzo un mezzo più un mezzo fa 1 e 1 meno 1 fa 0 questo funziona quindi se calcolo il polinomio mettendo il posto di x un mezzo ottengo 0 e questo quindi è il resto della divisione per cui il polinomio di partenza è divisibile per x meno un mezzo ok facciamo la divisione 2 1 1 e ancora meno 1 e qui sotto mettiamo un mezzo quindi quindi abbasso il 2 2 per un mezzo fa 1 lo metto qui sotto 1 più 1 fa 2 ancora 1 per un mezzo fa di nuovo 1 1 più 1 fa di nuovo 2 2 per un mezzo fa 1 e 1 meno 1 fa 0 questo è il resto e questi sono i coefficienti del poziente e quindi diventa un polinomio di secondo grado che è 2x la seconda più 2x più 2 ok quindi il nostro polinomio di partenza che era fatemelo di scrivere eccolo qui 2x la terza più x la seconda più x meno 1 2x la terza più x la seconda più x meno 1 ok è scomponibile come 2x la seconda più 2x più 2 per x meno un mezzo attenzione qui ho tutti i coefficienti che sono 2 quindi posso raccogliere un 2 fattore comune posso riscrivere quello come 2 per x la seconda più x più 1 e poi ho x meno un mezzo e per evitare per evitare di avere un mezzo la frazione nella seconda parentesi posso prendere il 2 e moltiplicarlo per la seconda parentesi tanto la moltiplicazione è associativa quindi questo posso scriverlo come x la seconda più x più 1 per 2x meno 1 probabilmente sul testo da questa come risultato ok è più chiaro? facciamo ancora un esempio immaginiamo di scomporre per esempio x la terza meno x la seconda più 5x meno 3 anche qui usiamo Ruffini qui abbiamo il polinome di terzo grado quindi il coefficiente chiamiamolo a3 di terzo grado è 1 e il coefficiente di grado 0 è meno 3 quindi cerchiamo i divisori di meno 3 di a0 che vale meno 3 che sono più o meno 1 e più o meno 3 altri divisori non ci sono e il resto della divisione quindi la calcoliamo come prendendo il valore dell'efficiente quando x vale uno di questi numeri cominciamo da 3 per fare prima perché la divisione l'ho già fatta dovremmo provarli tutti finché non ne troviamo 1 se x vale 3 il polinomio diventa 3 alla terza meno 3 alla seconda più 5 per 3 e ancora meno 3 c'è una domanda perché qui dovremmo prendere i valori del datare a x per trovare il divisore facendo il rapporto tra i divisori del termine noto cioè quello di grado più basso e il divisore del termine di grado più alto quindi se fai il divisore di meno 3 diviso il divisore di meno 1 ottieni il divisore di meno 3 ok se questo mi è dimenticato di dirlo ovviamente se il termine noto cioè se il coefficiente di grado più alto è 1 non serve neanche considerarlo 1 va direttamente il divisore di meno 3 completiamo il calcolo del resto abbiamo 27 meno 9 più 15 e ancora meno 3 ok in questo caso abbiamo un secondo più efficiente si era meno 5 chiedo scusa ho copiato male il segno 27 meno 9 fa 18 meno 15 meno 3 fa meno 18 e il totale è 0 quindi un divisore di questo polinomio è x meno 3 per cui facciamo la divisione abbiamo i coefficienti 1 meno 1 meno 5 e meno 3 e qui in basso mettiamo il numero che annulla il polinomio quindi 3 abbasso l'1 moltiplico 3 per 1 che fa 3 e il risultato lo metto sotto la seconda colonna sommo meno 1 più 3 che viene più 2 moltiplico per 3 che viene più 6 lo incolonno a destra sommo 6 meno 5 che fa più 1 3 per più 1 fa 3 e sommo di nuovo ottengo 0 questo è il resto e questo è il quoziente quoziente di x che vale quindi in primo di secondo grado x alla seconda più 2x più 1 e il divisore che era x meno 3 quindi il nostro polinomio di partenza x alla terza meno x alla seconda meno 5x meno 3 è scomponibile come fatemi controllare se l'ho copiato bene se il poziente x alla seconda più 2x più 1 per il divisore x meno 3 attenzione questo è un prodotto notevole è il quadrato di x più 1 quindi quando ho il quoziente devo comunque controllare che non sia scomponibile anche quello quindi il problema di partenza è scrivibile come x più 1 alla seconda per x meno 3 adesso non posso scomporre altro perché domande? dobbiamo ancora un esempio dobbiamo fare questo dobbiamo ancora questo esempio questo è il 362 pagina 379 scomponiamo 2x alla terza più 5x alla seconda meno x meno 6 qui abbiamo due coefficienti di grado più basso è meno 6 e di grado più alto è 2 quindi cerchiamo i valori da dare a x affinché il problema sia nullo tra il rapporto tra i divisori di meno 6 e i divisori di 2 meno 3a sono divisori di meno 6 frate i divisori di 2 quindi avremo più o meno 6 più o meno 3 più o meno 1 e ancora più o meno in questo caso un mezzo ok cominciamo con quello più semplice per mandare a x il valore 1 in questo caso avremo 2 per 1 alla terza più 5 per 1 alla seconda meno 1 meno 6 abbiamo 2 più 5 meno 1 meno 6 che fa 0 che ci va bene quindi il polinomio è divisibile per x meno 1 facciamo la divisione per trovare il quotiente quindi davanti efficienti sono 2 5 meno 1 e meno 6 abbiamo trovato che il resto è nullo se x vale 1 quindi metto 1 in questa posizione quindi abbassiamo il 2 moltiplichiamo 1 per 2 fa 2 mettiamo il prodotto sotto la seconda colonna 5 più 2 che fa 7 5 più 2 che fa 7 che abbiamo 7 per 1 e mettiamo il risultato nella seconda e terza colonna se meno 7 più 1 fa 6 1 per 6 fa 6 e 6 meno 6 fa 0 questo è il resto e qui sono i coefficienti del coefficiente e qui sono i coefficienti del coziente il coziente vale 2x la seconda più 7x più 6 quindi il nostro polinomio di partenza 2x la terza più 5x la seconda meno x meno 6 è scompondibile come x la seconda più 7x più 6 di per x meno 1 ok dobbiamo vedere se si scompone ancora se è ancora possibile scomporre questo utilizzando magari una delle teghe che abbiamo già visto 2x la seconda più 7x più 6 posso scomporlo come per esempio un trinomio particolare prendiamo i due coefficienti di grado più alto e più basso il 2 e il 6 e li moltiplico quindi ho 2 per 6 che fa 12 e poi ho il coefficiente determinato 1 che è 7 quindi cerco due numeri P e Q che hanno come somma 7 e come prodotto 12 qui è abbastanza semplice scomponiamo il 12 in fattori e il 12 si può scomporre come 3 per 4 e vedete che la somma di 3 più 4 è proprio 7 quindi il termine 7x che posso scomporre come 3x più 4x quindi il polinome da scomporre che era questo 2x la seconda più 7x più 6 posso riscriverlo come 2x la seconda più 3x più 4x più 6 adesso posso fare un raccoglimento parziale per esempio ad esempio tra i primi due monomi posso raccogliere una x ho 2x più 3 il terzo e il quarto monomio mi danno in comune hanno un 2 mi rimane 2x più 3 e quindi metto in evidenza la parte comune 2x più 3 e poi mi rimane x più 2 utilizzando appunto il terreno caratteristico quindi morale della favola il polinome di partenza questo è fatto nello copiare ecco è scomponibile in una prima fase con il la terrica di Ruffini poi abbiamo visto che il poziente è ancora scomponibile col trono caratteristico per cui alla fine abbiamo 2x più 3 per x più 2 per ancora x meno 1 e questo conclude la scomposizione ci sono domande? se non ci sono domande ci fermiamo qui grazie a tutti grazie a tutti